Siamo tornati a Lonigo per compiere un sopraluogo sul cantiere che metterà in sicurezza l'incrocio di fronte all'ospedale, ma che contemporaneamente sottrarà parcheggi preziosi a ridosso degli ambulatori. Oggi abbiamo sentito la gente. Io vedo la gente con le stampelli e poi alla mattina per fare le analisi e hanno detto che non verrà neanche più nell'ospedale di Lonigo, in quanto non sanno da che parte parcheggiare. L'utilità di questa rotatoria è anche indiscutibile, però non so quale delle due sia più importante secondo me, non è il parcheggio. Fanno quattro passi a piedi, è capitato anche a me di andare a Vicenza o altri posti, se non trovi lì la parcheggi più lontano. Il problema sono i parcheggi, però qualche soluzione la troveranno sicuramente. La rotatoria è giusta, il problema è l'elisoccorso che potrebbe essere trasformato in un parcheggio, sia per i dipendenti dell'ospedale e sia per i clienti dell'ospedale. Se si dimostrerà l'utilità, effettivamente verranno sacrificati questi posti, se ne sono stati creati degli altri. Tanti si lamentano, io dico anch'io perché qua davanti fa fatica a parcheggiare, a prendere giornali, quindi stiamo vivendo questo disagio. Speriamo solo che terminino in fretta e poi vedremo quanti posti rimangono. Adesso io non so quanti ficali, ha capito? Già, quanti saranno i posti autosacrificati? Inizialmente qui erano un centinaio, secondo il progetto che oggi siamo riusciti a vedere, al termine dei lavori dovrebbero essere una settantina. Attualmente però è il cantiere stesso che dà questi disagi peggiori. Si lavora di notte, non è ben chiaro quando sarà terminato e c'è anche chi si è ritrovato prigioniero in casa propria senza essere avvisato. Una cosa inammissibile è un minimo di preavviso di concordare con i cittadini privati in questa situazione di disagio. Ci voleva così, non so se è colpa di impresa, se è colpa del comune, io so che mi sono trovato il mio cancello di uscita e rientrata sbarato, senza nessun preavviso. Non credo che sia una cosa giusta.